8 interventi per mitigare gli effetti del maltempo. La Giunta Comunale di Feltre ha approvato un nuovo studio di fattibilità per progetti di ripristino di alcune aree del territorio, oggetto di dissesto idrogeologico. Gli interventi si concentreranno principalmente nelle frazioni di Zermen, Vellai e Villaga Tomo. A Zermen, in via Tevere, due cantieri previsti per la messa in sicurezza della strada e del relativo dissesto a valle, mediante la realizzazione di terre armate per un totale di 350 metri. Sempre a Zermen, in via centrale, verrà messa in sicurezza la sede stradale con annessa reggimentazione delle acque di versante. In via Telva, invece, verranno convogliate le acque di superficie con la realizzazione di una cunetta di scolo. Spostiamoci a Vellai, dove sono due gli interventi previsti. Il primo, in via Le Case, prevede la messa in sicurezza del versante con la realizzazione di un banchettone a elle in calcestruzzo lungo 65 metri, mentre in via Case Bianche sarà sostituita la condotta interrata di captazione delle acque di versante. Un banchettone a elle sarà realizzato anche in via Barucce, tra Tromo e Villaga. Infine, in via Laviste, verrà realizzata una briglia per la stabilizzazione del fondo del torrente Gravon. Gli interventi avevano ottenuto un finanziamento a valere sul PNRR di 1.060.000 euro, ma l'aumento dei costi di cantiere ha fatto schizzare la cifra complessiva a 1.557.000. Per reperire i 497.000 euro mancanti, fa sapere l'assessore ai lavori pubblici Andrea Bona, le opere sono state candidate ad uno specifico bando regionale in scadenza nei prossimi giorni.